la mercedes classe g è un'auto unica infatti è costruita a mano ininterrottamente dal 1979 il nome originariamente era g wagen che tradotto in tedesco significa fuoristrada infatti qui ci troviamo con uno degli ultimi fuoristrada veri rimasti in commercio come dicevamo prima è prodotta dal 1979 ma ciò che la rende veramente una leggenda dei motori è il fatto che più passano gli anni e più quest'auto diventa di moda infatti ormai è veramente uno status symbol e non è difficile trovarle in città come dubai o monte carlo ma oltre ad essere la regina delle vie più chic delle città ha vinto il rally ride più famoso del mondo ossia la brigida car nel 1983 e quelli erano anni in cui quasi tutti i costruttori d'auto partecipavano sotto il cofano di quest'auto si trova un v8 benzina 5.500 da 386 cavalli ed è il motore più indicato per quest'auto si ci sono delle alternative diesel come la 350 di però diciamo che i consumi non sono così diversi anche considerato che quest'auto ha ben 150 cavalli in più dell'alternativa diesel salendo a bordo ci rendiamo subito conto della caratura di quest'auto infatti siamo avvolti dalla morbida pelle e da questa bellissima radica inoltre questo esemplare è dotato di sedili con una pelle ancor più preziosa la pelle designo poi abbiamo anche molti gadget del livello di quest'auto come i sedili che sono elettrici con la memoria ma anche riscaldati e refrigerati abbiamo il volante riscaldato abbiamo il navigatore satellitare la connettività bluetooth e clima automatico di zona inoltre basta alzare la testa e lunga fuori la mano per toccare il cielo grazie a questo tettuccio apribile in conclusione se volete portarvi a casa questa g500 destinata a diventare un classico senza tempo visitate il nostro sito www.lorenziab.it oppure venite a trovarci nella nostra sede a Ghedi in provincia di Brescia in via artigianale 74 76 www.lorenziab.it